Ciao ragazzi bentornati sul canale di GeneticDNA e a questo sedicesimo appuntamento con God of Warcraft Cominciamo con una balla di scesuzza Eccoci qua Siamo ritornati al punto Chiedo scusa se è un po' di tempo che non faccio questo gameplay ma purtroppo è successo un piccolo problema Nel senso che non mi faceva caricare il salvataggio Penso che si è corrotto durante l'ultimo salvataggio Quindi ho dovuto ricominciarlo da capo e arrivare appunto dove vi avevo lasciato l'ultima volta E' per quello che ci ho messo un po' In più metteteci gli impegni di lavoro, gli altri gameplay che sto facendo Vabbè Ricominciamo ragazzi Con il nostro Kratosigno Qui c'è Qu'è questo morito? Ne mega statuozzo. Eh, c'ho cane! Bau bau! Brutale! Cagnolino, che mi fa cagnolino? Ah, devo buttarlo lì sopra? Oh, fico! Cagnolino, che mi fa cagnolino? Cagnolino, che mi fa cagnolino? Cagnolino, che mi fa cagnolino? Sotto il prossimo... Ehm... Congeliamoli un po'! Cagnolino, che mi fa cagnolino? Cagnolino, che mi fa cagnolino? Cagnolino, che mi fa cagnolino? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, cavolo. Mister Martello. Grazie a tutti. 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 Prendiamo un po' di cose. Grazie a tutti. Ok, mi dice di usare... Ok. La testa... Vi riattacchiamo la testa... Grazie a tutti. Ok... Qua ora abbiamo un'enigma... No, no... No, no, no... Vedi che cosa devo fare... Vedi che cosa devo fare... No, 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 no... No, 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 no... Ah, sempre a rompermi... Ah, sempre a rompermi... Ah, sempre a rompermi... Che spazio... Che spazio... Ma che mi pare sto enigma in pace, no? No, no, no... 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 No, 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 no... 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 No, no... No, 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 no, no... Ah, ok... Da quello che... Da quello che riesco a capire... Dovremmo fare in modo che quel... Che quel raggio viola... Attraversa quel... Invece di blocco di vetro... Fuoriesca dagli occhi... Come avete visto, invece, spara... Un po' più in alto... Ok, qua non serve a niente... Vediamo... Come fare... E... Met... Allora... Come fare... No... Come fare... Grazie a tutti. 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 Oh, San Crispino. Che cacchio devo fa... Sì, sì. Prendiamo un po' di tempo... così per annoiarvi un po'. Bene, in questo punto mi sono veramente rotto il cazzo, quindi ho tagliato il pezzo che sono stato qui a girovagare 300 anni, quindi... per cui dovremmo fare questa mossa. dovrebbe esserci lì la... la mia cosa... quindi per cui... riapriamo qua... e ora dovrebbe arrivare la mia... eccola lì... che cade giù... che... 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 bello... che... 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 me ha Joan... mi ha visto... Mi ha visto... Ciao! ... Un po' di scosse Cos'è che fa? Oh no! Vaffanculo, stupido cosa! Eh! Uff! Tu che cazzo vuoi! Ok ragazzi, questo gameplay finisce qui e... Vi aspetto al prossimo... Alla prossima puntata! Ciao ciao da GeneticDNA! Ciao! 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 Ciao!